Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg di TV City in apertura La Cronaca, denaro per circa 350 mila euro è stato sequestrato dai carabinieri Trattore del Greco Portici e Napoli, ci sono tre indagati per riciclaggio, nuova circolare del Ministero della Salute per la somministrazione della terza dose Intanto il punto sui contagi a Torre del Greco, ieri sera aumentano le guarigioni Non manca il consueto aggiornamento del governatore della campagna Vincenzo De Luca e il suo monito ad aprire gli occhi, i dati sono rassicuranti Ma la campagna vaccinale è ferma Torniamo a Torre del Greco Questa mattina con le nostre telecamere siamo stati nella zona delle Cento Fontane per documentare la situazione Dopo il restyling questa opportunità non va sprecata Anche le scuole sono state protagoniste al sito storico di Torre del Greco in occasione della Due Giorni di Eventi per la Festa del Mare Questo ed altro, guardiamo i servizi Denaro per circa 350.000 euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici dai canabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno notificato a tre persone gravemente indiziate a vario titolo di fraudolento trasferimento di valori e riciclaggio Il decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura L'indagine parte dal ritrovamento lo scorso agosto di una cospicua somma di denaro contante nell'abitazione di uno degli indagati durante una perquisizione di iniziativa della Polizia Giudiziaria Sulla scorta delle indagini in itinere è stato accertato che la somma in questione per un totale di 350.050 euro era custodita da uno degli indagati per conto degli altri due per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di agevolare i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nonché di favorire l'impiego di denaro provento delle attività delittuose tra le quali associazione per delinquere finalizzata a plurime ipotesi di turbative d'asta turbate a libertà del procedimento di scelta del contraente corruzione, concussione consumata, associazione a delinquere finalizzata alla compraventa di voti elettorali attribuite a vario titolo a due dei destinatari del provenimento di sequestro Aumentano le guarigioni a Torre del Greco Secondo il bollettino di ieri sera infatti si registrano 16 nuovi guariti a fronte di tre nuovi casi di positività Muta così il bilancio della 542esima giornata consecutiva di attività del COC Totale ospedalizzati 9 Totale in isolamento domiciliare 63 Totale guariti dal Covid 6.693 Totale decessi 176 Intanto nuova circolare del Ministero della Salute per la somministrazione della terza dose In sintesi sarà possibile procedere con la somministrazione di dosi booster di vaccino come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario a favore delle seguenti categorie ovvero 80 personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani In un momento successivo una dose booster potrà essere altresì offerta agli esercenti delle professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali a partire dai soggetti di età superiore a 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario considerate le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA sarà per ora possibile utilizzare come dose booster uno o qualsiasi dei due vaccini autorizzati in Italia Pfizer e Moderna La dose booster va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario In linea con quanto evidenziato dal CTS la strategia di somministrazione di una dose potrà includere anche i soggetti con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti preesistenti previo parere delle agenzie regolatorie La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale verrà invece decisa sulla base dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'andamento epidemiologico Abbiamo dati rassicuranti sul piano nazionale e regionale Ad oggi non registriamo picchi di contagio per covid Il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa il consueto punto della situazione Non sono ingolfate le terapie intensive dall'inizio dell'anno scolastico, aggiunge Non abbiamo registrato situazioni preoccupanti Dovremo aspettare però le prossime settimane per avere un quadro di maggiore certezza Il dato negativo invece, prosegue De Luca è che in Italia si è quasi bloccata la campagna di vaccinazione Neanche con le decisioni relative al Green Pass le cose stanno cambiando Si fa fatica anche per la terza dose Noi daremo un'accelerata per le residenze sanitarie per anziani Non manca un monito del governatore ad aprire gli occhi Mi prego di aprire la testa e gli occhi perché a furia di imbecillità e di irresponsabilità a furia di prenderci lussi che non possiamo prenderci Noi rischiamo di far riemergere malattie che hanno rappresentato tragedie in mani per le nostre famiglie qualche decennio fa non qualche secolo fa qualche decennio fa Sono tornate nuovamente a sgorgare le fontanelle del sito archeologico delle Cento Fontane in occasione della Festa del Mare tenutasi il 26 e il 27 settembre a Torre del Greco In seguito al progetto di recupero promosso dall'amministrazione comunale il sito appare oggi sotto una luce diversa non più luogo abbandonato all'incuria del tempo e all'inciviltà ma attrazione ricca di storia e memorie Era da tempo che la comunità cittadina chiedeva un'opera di bonifica e di riqualificazione dell'area dato che l'ultimo restauro risale al 2006 Oggi è stata ritinteggiata nei suoi colori naturali e le acque che zampillano fuori dalle fontane non sono più sporcate da liquami La zona, ricca di fascino però richiede altri interventi volte all'eliminazione delle scritte sui muri adiacenti al monumento e una più generale pulizia del terreno attiguo Anche il tetto della struttura andrebbe ritinteggiato e alcune scritte sulle pietre antiche sotto le fontane eliminate Un passo in avanti significativo è un'opportunità che non va sprecata ripetendo gli stessi errori del passato perché la salvaguardia dei beni culturali richiede un'attenzione costante per valorizzare Torre del Greco e l'intero territorio vesuviano Scuole protagoniste alle cento fontane In occasione della festa del mare la due giorni voluta dall'amministrazione comunale dopo il restyling del sito storico ha coinvolto anche gli studenti torresi Hanno partecipato in particolare le classi terze, quarte e quinte del plesso Sasso dell'istituto dei Nicola Sasso I piccoli allievi vestiti con abiti antichi torresi hanno visitato il sito e ascoltato la storia di Torre del Greco rappresentato in abiti d'epoca anche San Vincenzo Romano Siamo felici di partecipare a questa bellissima iniziativa del comune che tende a valorizzare quello che è il patrimonio storico e culturale della città di Torre del Greco Questa è la festa del mare la città di Torre del Greco vive del mare e di tutto quello che è legato intorno al mare I bambini hanno preparato quest'anno una punta di apprendimento su miti, leggende e storie di grandi personaggi di Torre del Greco indossano, hanno riprodotto alcuni abbigliamenti tipici dell'epoca passata ringraziare tutti ma soprattutto ringraziare questi bambini perché al di là della serata stanno lavorando dal primo giorno di scuola sui liti, le leggende di Torre del Greco e amano forse più di lui Torre del Greco quindi ricordatevi sempre che lasciate la città a loro bravi bravi con questa notizia si chiude anche oggi il nostro TG vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviarci un'e-mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti